Finalmente abbiamo una trama. E al termine di questo video, se vi è piaciuto, potrete condividerlo con i vostri amici in modo da far arrivare a più persone possibili queste informazioni. Bene, nelle ultime settimane tutti quanti ci siamo chiesti quali potessero essere le eventuali avventure che potrebbero vivere i nostri eroi all'interno di Dragon Ball Heroes. Ricordiamo che Dragon Ball Heroes è un anime che andrà in onda a partire dal 1 luglio nelle emittenti giapponesi. Bene, appunto ci siamo fatti tante domande e sinceramente sono arrivate poche risposte. Eppure negli ultimi giorni hanno cominciato a venire fuori alcuni leaks provenienti dal paese del sollevante. Si trattava semplicemente di immagini dei protagonisti di Dragon Ball Super Heroes con tanto di descrizione a seguito. Quindi tramite queste descrizioni è stato possibile più o meno abbozzare una trama anche se ancora molto molto primitiva ad essere sinceri. Ad esempio sappiamo che le avventure saranno suddivise su 3 o 4 spazi differenti. Ovvero la timeline del nostro presente, quindi quella dove ci sono Goku e Vegeta che siamo abituati solitamente a vedere. Sappiamo che ci sarà una timeline proveniente dal futuro e adesso capirete anche il perché. Avremo come location anche il pianeta di Lord Beerus e avremo una nuova location, ovvero il pianeta prigione. Ma adesso ragazzi andiamo per gradi e cerchiamo di abbozzare una trama lineare proprio su Dragon Ball Heroes. Trunks nel suo presente sembra essere stufo di essere debole a quanto pare e decide di tornare nel passato per allenarsi nuovamente insieme a Goku e Vegeta. Fin qui non c'è niente di strano a parte il fatto di decidere di usare la macchina del tempo per un motivo abbastanza futile ad essere sincero. Finora Trunks ha sempre utilizzato la macchina per tornare nel passato ma per cercare di trovare una soluzione per il suo problema attuale nel futuro. Vedi Black Goku, vedi appunto gli androidi e insomma non vi devo stare a spiegare niente perché credo che sappiate perfettamente la storia. Una volta tornato indietro nel tempo e quindi essere arrivata la nostra timeline deciderà di allenarsi appunto come già detto con Goku e Vegeta ma nel pianeta di Lord Beerus. Perché comunque affascinato dal potere dei Super Saiyan Blue vuole provare in qualche modo a fare un allenamento divino e quindi si spostano sul pianeta di Beerus per cercare appunto di allenare ulteriormente Trunks. Ecco a questo punto dovrebbe accadere un evento particolare, un qualcosa che cambia drasticamente proprio l'intera trama e ci concentra verso il villain di questa saga o barra questa serie. Perché non so se il villain sarà effettivamente come posso dire il nemico totale di tutta la trama, non so se ce ne saranno altri ecco. Come accada e il perché ancora non lo sappiamo, possiamo immaginarlo per diversi motivi. Comunque sappiamo che dietro tutto questo probabilmente ci sarà Fu. Vi dico questo perché nelle immagini appunto dei probabili nemici barra alleati perché ancora non si capisce bene Fu quale ruolo avrà nell'interno della storia, compare comunque lui e finora è la figura sicuramente più misteriosa insieme ad un'altra che andremo ad analizzare tra pochissimo. Trunks verrà fatto ostaggio, verrà fatto prigioniero e verrà trasportato nel pianeta prigione. Ecco qua, questo è il pianeta prigione, la nuova location è una location che finora non abbiamo mai visto. Non sappiamo cosa c'è all'interno del pianeta prigione, se magari è effettivamente un pianeta prigione, scusate se sembra una cosa banale ma forse non lo è, nel senso che vengono richiusi tutti i criminali magari dell'intergalassia e vengono richiusi all'interno di questo pianeta, una sorta di impel down per capirci ragazzi, per utilizzare un termine di One Piece dove i criminali più ricercati, quelli più pericolosi vengono racchiusi in questo pianeta e quindi viene logico pensare il perché Trunks possa essere trasportato in un pianeta del genere. Sappiamo che non è un criminale perfettamente, anzi tutt'altro, eppure viene preso e portato in ostaggio in questo pianeta. Ad avvalare l'ipotesi che questo pianeta appunto è un pianeta che esiste perché deve ospidare i criminali peggiori della galassia, bene, c'è un motivo preciso perché credo che sia questo, perché all'interno ragazzi è rinchiuso anche Cooler ed è un altro dei personaggi che andremo a vedere all'interno di Dragon Ball Heroes inerenti a questa trama. Se Cooler è stato rinchiuso in quel pianeta è facile pensare appunto che è come dicevo io, che quindi quel pianeta serve unicamente per rinchiudere i criminali peggiori. Un po' forse come era anche per Bojack, chissà, sono quello che c'è rinchiuso lì dentro. Sappiamo per certo che vedremo Cooler, non solo, sappiamo anche che Cooler collaborerà con Trunks proprio per evadere da questo pianeta, quindi avremo un buono e un cattivo che collaboreranno insieme per riuscire ad evadere da questo posto. Ripeto, non sappiamo ancora perché effettivamente Trunks sia stato portato lì, forse per sconfiggere qualche minaccia o probabilmente per fare da esca a qualche personaggio un po' più grande e adesso arriviamo anche a questo. Le sorprese non terminano qui all'interno della bozza di drama che siamo riusciti a capire negli ultimi giorni, perché è stato confermato anche la presenza di Goku Super Saiyan di quarto livello e Alt. Qui devo aprire una doverosa parentesi. Ok, avremo un Goku proveniente da un altro futuro alternativo, quindi che non viene dal futuro di Trunks, non farà parte della timeline del presente ma verrà direttamente da un'altra linea temporale. Questo Goku, comunemente chiamato Xeno Goku, farà la sua comparsa all'interno di questa storia. Perché? Perché Goku nella sua timeline, quindi nel suo futuro alternativo, è a tutti gli effetti un poliziotto spaziale e quindi è stato incaricato di scoprire cosa accade all'interno del pianeta pregione di questa timeline. È un po' contorta come cosa, però vedrete che una volta che iniziate a vedere l'anime vi risulterà tutto molto più lineare e molto molto più semplice. Nell'immagine ci viene mostrato direttamente in forma di Super Saiyan di quarto livello, ma è facile ipotizzare che la prima volta che apparirà non sarà in questa forma, un po' perché la gente sbrama dal desiderio di vedere trasformarsi Goku in un quarto livello e poi soprattutto perché non avrebbe senso presentarsi così subito in forma a quarto livello. Non è che ci stia poi tantissimo tantissimo bene. Molto meglio la trasformazione in seguito. Quindi anche Goku si troverà presumibilmente, scusate ragazzi, all'interno del pianeta pregione e come è logico aspettarsi, anche Vegeta e Goku della nostra timeline arriveranno su quel pianeta e lì probabilmente vedremo il tanto atteso scontro fra il Super Saiyan Blue e il Super Saiyan di quarto livello. Il perché nasca questo scontro? Sinceramente ragazzi non so dirvelo, poiché comunque sono due Goku di due linee temporali diverse, ma alla fin fine si tratta sempre di Goku, quindi non so come riusciranno a realizzare uno scontro del genere e a gettare proprio le basi per farli iniziare a scontrare. Chi lo sa, questo per il momento è una delle curiosità più grandi che ho. Ultima cosa ragazzi, prima di lasciarci per cercare di definire ancora un pochettino di più la trama che andremo a vedere all'interno di Dragon Ball Heroes è la presenza di un Saiyan misterioso. Allora, lì viene etichettato come Saiyan misterioso antico ed è quel personaggio che tutti quanti credevano si trattasse di Yamoshi, cioè quella specie di Saiyan con la maschera all'interno di un incubatrice che a questo punto ha molto più senso perché quell'incubatrice probabilmente si trova all'interno del pianeta prigione ed è facile pensare che questo Saiyan si sia risvegliato là dentro e abbia cominciato a creare dei problemi e probabilmente sarà il motivo per cui Trunks verrà portato all'interno del pianeta prigione. Chissà perché proprio lui e non magari gli altri due. Comunque questo è tutto da scoprire. Sappiamo che ci sarà anche questo Saiyan che probabilmente, ragazzi uso il condizionale, sarà il villain di questa trama, sarà il villain definitivo, cioè quello che dovranno andare a sconfiggere. Per far tornare tutto quanto alla normalità. Rimangono alcune cose misteriose, come ad esempio il ruolo di Fu all'interno della trama, il perché Xenogoku sia stato mandato proprio all'interno del pianeta prigione e soprattutto perché Trunks sia stato fatto ostaggio. Lo so, lo ripeto più volte, ma è una cosa che totalmente non riesco a capire. Chissà, staremo comunque a vedere. Queste sono le informazioni che sono riuscito a trapelare negli ultimi giorni, a mettere insieme e a cercare di fare una bozza di trama. Certo, ho qualche paura perché Dragon Ball Super insegna che probabilmente poi magari qualche aspetto non venga spiegato per bene e io questa cosa non la voglio perché già se si tratterà di un anime con poche puntate, queste poche puntate ragazzi voglio che siano assolutamente descrittive e che abbiano un senso veramente logico di esistere e che soprattutto mi venga spiegato tutto quanto quello che accade senza lasciare cose in sospeso, senza lasciare trame troncate a metà. Questa cosa io non la voglio vedere all'interno di Dragon Ball Heroes quindi mi auguro fortemente che facciano veramente un ottimo lavoro e che ci diano tutte le risposte che vogliamo. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like. Ragazzi vi ricordo ancora una volta iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici. Noi come sempre ci vediamo al prossimo episodio. Hello guys!